Musica Salve a tutti ragazzi io sono Legomaster e oggi siamo tornati su Fortent per un nuovo video Oggi andremo a sbloccare tutte le ricompense del pass battaglia fino al livello 100 Quindi direi che possiamo cominciare subito andando ad acquistare il pass battaglia Ok pass battaglia compra pass battaglia conferma acquisto Pass battaglia sbloccato Già mi ha noto chimera e 5 stelle battaglia ok Ok dopo aver comprato il pass battaglia possiamo iniziare ad acquistare tutti gli oggetti Quindi riscatta tutte le ricompense ok Allora ci hanno dato una scia ok Un backpack Una copertura 100 v-pack Questa è molto che è bellissimo E la schermata di caricamento Ok Adesso di nuovo Riscatta tutte le ricompense E ci hanno dato uno strumento di raccolta Uno standard Una musica che non posso ascoltare Una schermata di caricamento 100 v-pack Uno spray E questo costume Ok Ottieni tutti Riscatta tutte le ricompense E ci hanno dato Questa scia Ok Dorso decorativo 100 v-pack Una copertura Questo è molto che non mi posso far sentire 100 v-pack Ah no Ok E questo stile di sanni Poi di nuovo Riscatta tutte le ricompense Dorso decorativo Detta plano Ok Schermata di caricamento Strumento di raccolta Standardo 100 v-pack E gugimon Ora Tieni di nuovo tutte le ricompense E ci hanno dato Uno spray Una copertura Uno standard 100 v-pack Un dorso decorativo Una scia E joy Ok Riscatta tutte le ricompense Dorso decorativo Spray Schermata di caricamento Copertura 100 v-pack Un pacchetto galattico Ok E giù la lampa Bello Ok Riscatta Trovo te lo faccio vedere Riscatta tutte le ricompense Detta plano Copertura 100 v-pack Strumento di raccolta Animale Ah cioppi Schermata di caricamento E zig Ok Pagina 8 100 v-pack Strumento di raccolta Penta plano 100 v-pack Schia Dorsa decorativo E la dottoressa Sloan Ok Ora pagina 9 Ora pagina 9 Riscattiamo 100 v-pack Una canzone Rilassati Ok Schermata di caricamento 100 v-pack Uno stile di zig Uno stile di cioppi Uno stile di Del piccone Uno stile di razza zig Uno stile della dottoressa Sloan E Un altro stile della dottoressa Sloan Ok Adesso Ultima pagina Finalmente E Ci hanno dato Lo strumento di raccolta Di Morti testa martello Uno spray Un delta plano Una copertura Una schermata di caricamento Un dorso decorativo E finalmente Rick Sanchez Ok Abbiamo sbloccato Tutte le ricompense E direi che Adesso Possiamo Mettere La skin Di Rick Se la trovo Eccola qua Ora dopo aver messo La skin di Rick Sanchez Direi che possiamo andare Un po' in creativa Ok Facciamo Qualche round Così In creativa Ok Ok Secondo round Non mi tirava Visuale Un po' in creativa 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 no, se ha fatto un altro posto si no 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 terzo round quarto round no no Quarantatré no? Devo ricaricare Devo ricaricare Am fundi Devo ir Ficsi Ficsi L'ho preso anch'io 182 No mi sa di più di 60 Ho 23 di vita No no si ok quindi sesto round neanche tu me l'hai messo no 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 Sì 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 No Ultimissimo round Sì 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 Ok questo video finisce qua Oggi abbiamo sbloccato tutte le ricompense del pass battaglia Abbiamo fatto anche una breve sfida in creativa dove provavamo la skin di Rick Sanchez E niente iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e tutti gli altri video Attivate anche la campanella per non perdervi nessun video e anche nessuna live E noi ci vediamo in un prossimo video o una prossima live Ciao 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 Ciao